un uccelli che donaria un bolsetto, ma uno solo, quello che gli fanno dai denti, e poi si grinta un'chia più grande e buona che diventaria tutte le storie, ma tutte storie che finisse ben però, perché a me, e storie che finisse mal, ma proprio non me piace, ma buono, è proprio, madonna, basta sognare adesso, non devo a casa, perché se ne va avanti a quest'ora, non mannevo neanche più tutta sera, non devo a casa, aspetta Solana, ti dà ragione, ti mi sono piaciuto sì, ma che sei in calcossa là in fondo, ti sento che vado ad andare a vedere, ma so che sempre che sia, ma andiamo a vedere, sono una griglia, non mi sento bene, andiamo a vedere insieme, aspetta, aspetta, madonna, che magari che sia il vostro fiore che vi aspetta a casa per mangiare, poi mi aspetta per mangiare, mi ha detto prima che sei andato a fare la processione su, per le montagne, perché se dovete adesso la casa che vi aspetta per mangiare, ma sai, non è che si è fatto i fiore, madonna, a volte dice che viene, poi non viene, se è sempre meglio farsi trovare con un bel piatto di minestra a tua tua tua, che non si spaggia mai, non devo via, madonna, ne prego, che so distrutta, va bene, va bene, Solana, temo via, guardami su un piastra chietta, che vuole venire, io mandaremo, vada, mi so po' a retta, ma un piatto di minestra che ho dato veramente volentieri, dai, vi mangiare con me, madarena, andiamo a mangiare insieme, che sennò mangio sempre a casa da sola, vieni, e madarena vada verso il tuo, e la varia soltanto voglia di correre, veloce, verso Iesus, di guardarlo, di strizzerlo, per l'ultima volta, ma, e a guarda che io c'è madonna, che ha da stare a me, che dice, sì, madonna, sveglio volantiera, se non mi disturbo, ma no, quale disturbo, che mi so contenta, dai, andiamo a casa, madarena, e c'era Drio finalmente andare giù nel re, verso casa, quando, madonna arriva da recessione, e si era tutta malciapata, tutta arrabbiata, con scogni suolo, tutto insanguinato sulle mani, e allora, e allora, mi dice madonna, che c'era Drio andassi, ne ha vede, e che dice, ma, ma signora, mi si è tutta mal, perché c'era questo lenzuolo insanguinato, non aveva bisogno di qualcosa, non aveva bisogno di qualcosa, signora, no, ma non so a me, che mi si è fatta mal, no, se quello là, quello che dice che sei un stregonasso, ma quello non sei un stregonasso, ve lo dico, mi so beccia, ne capisco tutto, quello non sei un stregonasso, quello, è i dagli occhi, dei sangu, ve lo dico, mi madonna, e mi ha fatto un miracolo, e mi ha fatto un miracolo, lo che interessa, la signora Zoanna, decidomi, cosa mi interessa, cosa no, che cosa mi ha fatto, signora, e dott'asco, mi suono, mi dò, mi si è asciugato, tutto il corpo, e il viso, ma, sa me, cosa mi ha fatto, io, il me gatto, e assa, tutta la sua inpronta, del corpo, e del viso, qua, perfetta, come se fosse un ritratto, fatto di sangue, un miracolo, aveva fatto, siora, le passa a vedere, su di suolo, siora, per piacer, un demo via, madonna, mi scongiuro, aspettate, zoanna, voglio vederlo, me lo fanno a vedere, siora, per piacer, un demo via, me prego, madonna, un demo via, aspettate, zoanna, voglio vederlo, adesso, non paga a vedere, siora, me prego, madonna, non paga a vedere, basta, zoanna, e paga a vedere, sto di suolo, siora, perché a sé, vabbè, 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 non paga a vedere, madonna, vede a fare attenzione, però, perché questo qua, non è uno normale, deve il segno, di a prose, brava, perché questo qua, sei, il fiol, del Dio, è un po'